Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come L'abbandono di uno sponsor ha scosso l'intero programma. Ecco quale brand ha abbandonato il reality e i motivi di tale decisione Il grande fratello VIP7 è iniziato due settimane fa e sono già emerse diverse tensioni all'interno della casa L'ultima polemica ha riguardato non solo i concorrenti, ma anche i telespettatori a casa e si è abbattuta anche sugli sponsor Quale sponsor del programma si è dissociato da quanto accaduto negli ultimi giorni all'interno della casa? Quali sono le motivazioni? Ecco tutti i dettagli Sponsor si allontana dal GF VIP7, ecco il motivo.Il grande fratello VIP7 è condotto per la quarta stagione consecutiva da Alfonso Signorini Ad affiancarlo in studio ci sono le opinioniste, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, quest'ultima già presente lo scorso anno in questo ruolo Ma che cosa è accaduto di spiacevole negli ultimi giorni? Quale importante sponsor ha scelto di defilarsi in seguito a una polemica? Ecco tutto quello che c'è da sapere L'abbandono.Nelle scorse ore ha lasciato la casa più spiata d'Italia, Marco Bellavia I motivi sono legati alla sua ansia, alla depressione e agli improvvisi crolli di natura psicologica L'uomo, nonostante avesse provato più e più volte a cercare aiuto fra gli altri vipponi, è stata emarginato Un qualcosa che non è piaciuto ai tanti telespettatori e appassionati a casa, ma non solo Infatti, la notizia delle ultime ore è l'abbandono di uno sponsor dal grande fratello VIP Si tratta di Amica Chips. L'azienda produttrice di patatine fritte e snack si è dissociata in modo categorico da quanto è avvenuto negli ultimi giorni all'interno della casa Che comunicato è stato emesso? Queste le parole rilasciate dall'ufficio stampa del marchio, Amica Chips e da sempre sinonimo di amicizia, condivisione, integrazione Il nostro intento è sempre stato quello di unire e non dividere, rallegrare ed alleggerire i momenti, non appesantirli Ci dissociamo ovviamente da ciò che accade dentro la casa del GF VIP Ci dissociamo dalle persone che permettono tali comportamenti e che li assecondano, cosa che non facciamo noi essendo sponsor del programma, ma non fa autori né sostenitori di ciò che i protagonisti fanno e dicono Teniamo a chi ci segue e ci sceglie tutti i giorni per la propria tavola La nota è stata anche pubblicata fra le Instagram Stories del noto brand alimentare Un vero e proprio terremoto si abbatte sul grande fratello VIP, dopo quanto accaduto a Marco Bellavia e alla poca compassione degli altri inquilini Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie Ciao e ci vediamo nei prossimi video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video Grazie per aver guardato il video